Abbondante nevicata su tutto l'arco alpino della regione. Durante la notte la neve è scesa copiosa creando notevoli disagi al traffico soprattutto questa mattina. L'autostrada infatti è rimasta chiusa ai mezzi pesanti per sei ore da mezzanotte alle sei nel tratto tra Udine Nord e Tarvisio. La neve fresca va dai 35 centimetri di Zoncolana e Varmosta ai 52 di Piancavallo con l'altezza totale che raggiunge quasi il metro a Sappada e il metro e mezzo a Stella Nevea. Sciatori felici, protezione civile un po' meno, alcune squadre comunali sono al lavoro per lo sgombero soprattutto a Tramonti, Artaterme, Taipana, Ovaro, Andres, Cimolais, Paolaro, Lusevera e Socchieve. Sono operativi 110 volontari di 30 comuni con 40 mezzi per il monitoraggio del territorio. Il bollettino Balanghe tra l'altro parla di pericolo forte per Giulie e Canin e di pericolo marcato su Carniche e Prealpi. Particolare l'intervento dei vigili del fuoco che nella notte hanno soccorso due giovani bloccati sul monte Colovrat in comune di Drenchia. I due ragazzi del Cividalese che erano saliti con una panda fino al Museo della Grande Guerra sono rimasti intrappolati nel parcheggio a causa della nevicata. I vigili aiutati da uno spazzaneve privato sono riusciti a liberarli. Come detto con l'autostrada chiusa, adesso però percorribile senza problemi, i mezzi pesanti sono stati bloccati a Udine Sud. Lunga la coda di tiri incolonnati quindi fino a quando la pulizia non è stata risolta e piano piano i mezzi hanno ripreso a circolare. Qualche disagio anche per la qualta a Grado e a Muggia senza conseguenza per la popolazione. A Grado il picco massimo si è fermato a 126 centimetri, ampiamente al di sotto di quanto ipotizzato nel primo bollettino.